e l'ho gai salve ragazzi vedete diventato questo video sono blitz e sei tutto se di poco non si dice alti insieme a sblaster che dopo questo alleatore pia muschi così può avere un po di ex che non avrò mai abbastanza per volvermi mi manca pochissimo il bj stupido pc muri adesso dai ragazzi tanto ora ragazzi questo allenatore da gioccio jabbra cosa bella che è successo un fatto che pensa con bug che adesso è successo ma c'è successo potarti non si può far più niente ma no un tipo di questi l'ho attuato ragazzi si è bellissima di tipo ghiaccio glaci bellissimo lo prendiamo in che senso si guardi cosa si guardi lì me lo ha detto una cosa interessante a che brutto già ud c'è da cosa non è visto la migliorato il senso è cambiato volevo dire è brutto dai potete un doppio livello la città è una ragazzetta c'è la famiglia questo palestra strano ma è questa questa strana possiamo asciutto tutto ci sono fatto gli allenatori c'è l'uomo ha guardato sto poco rolder raga la palestra intanto la david è che leader brock se è udito sono sotto il livellato sì ma io posso far tutto bule siti no si faccio te colpe non ti ho fatto colpi one shot al giro del simbucle roll di quel poco non non so sicco a stones por stones por non so avete visto anche voi che body and partiamo si tippa ma non è colpa mia sul prossimo si vede così poco poi impariamo si tippa o lo starter che c'è il nostro amico ice plasteri facciamo super efficaci tippa erba non gli ho fatto niente no 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 questo ma no no che è successo che è successo di usare sorba sorba stupido stomper dai parisi bless it questo è l'attacco più difficile sto facendo un po come di tipo acqua che deve essere non super efficace chi butta in campo capo 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 come va a avere la polire storia no una pozione no intanto facciamo focus energy così facci criticali stupido stupido no a me aspetta per secondo ora tu non usi eh ma io non faccio niente il mente c'è un bug sì sì bravo dice video di noi quel po come di prima che non so perché non usciamo a sottare vediamo adesso sto sperando è vero che non so che fa danno mi sembra che questi quali potrebbe essere un tipo stile secondo me sì sì solo alzando la difesa per adesso penso che il massimo iniziano mossi tipo rocce ma si spettiva adesso la palestra è vinto adesso con l'ultimo amber di cuero con il suo proprio riesco a portarmi a livello 17 stranamente davvero stranamente quando sono andato a prendere c'è non sta a vedere in capolasco uno starter e soprattutto quando adesso si vede la scena dei team eclipse che abbiamo saltato lo scorso episodio devo andare qual è una cosa un modo che cosa non d'ora c'è la grotta era stata per la grotta no sono una cosa non sono adesso cutter house si grazie che c'è grazie adesso in tele sien zero uno sì grazie signore adesso posso fare il parecato i miei pormone che la persona di che tu baici ci c'è poco mancato le nitte o e anna coppia poi parano mossa in decente partico però coppia si potrà fare tacumi si potrà fare parte come il pc non voglio di portare tutta come mi squadra in dare un peso ai splaster dire che curia mi poco poco ma andiamo verso la grotta batte team e clips è giusto tra a wad che comporterà il mio polio ad che c'è un pc che non usero quasi mai perché a brag si è andata giù vero ma di idop che non ci sarà il tv che mi farà cambiare il nome mattina te perché vuoi evolvere mio starter a questo c'è una volta in doppio difficile sì perché c'è stato già tutto che non va giù anche se aveva 3 ps non mi muore non muore adesso muori tu giuro c'è colpi tre colpi ha ammazzato quanto ci ho messo c'è ancora un po come vero grazie che mi abbia battuto dopo un secolo grazie per i vostri soldi ci vediamo dove andare sì sì tu pica oh si nooo zubat ho preso io di che di non cosa prendete ho preso un piccaccio non so signore no no un piccaccio raga io ho un problema di si bh grant cos'è b oh mio dio si è un ragazzo un po' grande ho voluto il mio starter se vuole no stupido tattica mia nope no non è bello da sentire ma si dà è prendito pikachu e te vai no si chiama pecca piccolo capricor bucciamolo farò come ho fatto sempre ancora si voleva adesso 18 una bomba è una bomba è una bomba io sono 12 minuti di fare una cosa a me piace il nostro mio po con i g che ha problemi di livellare perché è arrivato solo a un livello un po basso ma si può finire il video intanto sto quanti a formare e io faccio focus energy e poi ti attacco da rara non sono stupido questo mi puoi dire ciao